e bello a tutti ragazzi e ragazzi e oggi siamo in un nuovo video allora ragazzi praticamente su tiktok mia sorella mi ha fatto uno stesso che mi ha buttato l'acqua in faccia mentre dormivo raga però dobbiamo fare la bassa voce raga ho paura vediamo la porta guardate ho paura che entra mia sorella perchè sta in cucina quindi non dovremmo mai sentirmi perchè ci saranno altre stanze in me la cucina allora raga ora farò lo stesso a mia sorella perchè se volete vedere lo stesso che mi ha fatto che a me che mi ha buttato l'acqua in faccia metterlo in vivo su tiktok mi chiamo carmen annafrancesco andatemi a seguire e guardatevi il video questa è cosa più importante però guardate questo allora ragazzi ora vogliamo scherzo mia sorella che io sono giuventino perchè che ti voglio perchè voglio sapere che mi ha tutti ti vogliono napoli pure io solo che ora ce l'ho stesso solo mio zio che ti vogliono però non fa niente c'è un po come ne importano allora ora possiamo la telecamera c'è poi il telecamera ok raga si vede proprio la porta ok raga no troppo così così si vede ecco così non si vede no raga e io poi non mi vedo ok fosse Anna dimmi puoi venire un attimo certo ok dimmi ciao Anna dimmi allora Anna praticamente ti voglio dire una cosa te la dico a te perchè non è questa mia sorella è io ho detto eh ha già detto a carmen no a carmen l'avevo ho detto io praticamente Anna io sono non so come dirti io sono giuventino Anna è bella, Anna è bella, Anna è bella, Anna io sono Juventino, che cosa hai da dire? Anna mi piace la Juve, sono Juventino Anna, mi ha giocato proprio il Cristiano Manalto, secondo perché faccio sempre la sua stanza? Cioè faccio sempre? Sì! Cioè Anna, hai capito? Anna, puoi andare un attimo a dire una cosa? E Anna, mi devo cambiare Anna, un attimo a dire? Ok, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, non l'avete capito? Si è tolto la telecamera, era visibile, meno mai che non ha visto, mamma mia ragazzo, sto morendo, perché ho fatto il risultato di che sono andato per far ridere? Ok ragazzi, mi guarda, ci guarda, ok ragazzi, ora lo mettiamo qua, che si vede tutto, che si vede la porta. Posso venire? Anna, non posso, mi sto cambiando. Ok. Passa? Ragazzi, è arrivato per un vento. Passa? No. Perché? Anna, mi sto cambiando, non trovo il pan. Ma Vito, che ci vuole cambiarti? Eh, niente però. Passa? Finita? Un attimo. Passa? Anna, no. Non puoi entrare, ok? Anna esci, devo ancora sulle vestite, Anna. Non l'ha scoperto? Grazie a Gesù. Lo sapete perché? Perché lei mentre è venuta, io avevo già nascosto la telecamera, quindi raga, ora è nascosta. C'è mio padre che lo ha scusato. Passa? Anna, non puoi entrare, ok? Passa? Anna, Anna, non lo pigi, eh? Vabbè, facciamo un cazzo, devo fare finta che ci fredda. So, che, un po' mi devo portare la telecamera, ok? No, regal, è tu, Anna. Anna! No. Ok, Anna, giusto la chiave. Posso non la chiavi? Mi è una. Prendiamo caccia. No, no caccia, poi. Prendiamo. Prendiamo questo. Prendiamo questa roba. Mettiamo tutto qua. Sta roba. Anna! Anna! Si vede? È nascostissimo. Anna! Puoi venire? Sì, sì. Sì, sì. Anna, ma fino a non mi sono cambiato. Perché non trovo il vestito che volevo, forse non ho portato. Ah, ok. Vabbè, Anna. Allora, comunque ti vediamo. Non è perché che non ti crede, dai. Anna, ti vuoi un po' eh? Vabbè, ti vuoi. Juve, sono un po' triste, però, comunque... Sono un po' triste, però... Aspetta un attimo, devo chiedere la porta. Anna, va, Anna. Ma se comunque... Anna, ti vuoi un'altra cosa? Sì. Anna, ti vuoi un'altra cosa? Eh. Ah, a parte che ti vuoi Juve, eh? Eh. Lo sai perché ti vuoi Juve? Eh. A me piace un giocatore che ti vuoi Juve. Eh. Ti piace? Eh. Ma ho capito in che senso. Tutti i sensi. Hai capito in che senso? È bello. Andrassi un'altra cosa. Eh, invece, la voglio dire. Saluta YouTube. Raga, raga. Ragazzi. Raga. Guardate, Anna, com'è mi cavolata. Ah, ah. Guardate, Anna. Appasso tutti. Allora, raga, dovete capire che, praticamente, io potevo continuare lo scherzo, però mi stavano schifo pure a me, quindi io non ho continuato, capito? O se no, Anna si vede, secondo me. Vabbè, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. Anna, non gli è piaciuto. Spero che il video vi sia piaciuto. Anna, ti sento, ok? Io farò un altro scherzo. A sto Francesco. Ma lo dici, raga. E non me lo farà mai. Non te lo faccio. No, no, non me lo faccio. Vabbè, raga. Ora dobbiamo andare. E che dire? Spero che il video vi sia piaciuto. E ciao. Non mettete i like. Stavo scherzando. Ciao, raga. Ciao. Però prima di salutare, però raga, prima di salutare, questo è una cosa. Sì. Ciao, raga. E io mentino.